buongiorno a tutti siamo Frankie by Dentro ben ritrovati ed eccoci qui con Ayrith o Ayrith come volete in questo momento stiamo sfuggendo all'attacco dei Tarks ed eccoci finalmente arrivati ai bassi fondi allora se lei mi aspetta lì possiamo andare di qua intanto riposiamoci un attimo c'è una musica da queste parti questo è un attimo posso qua? no Ok, abbiamo bisogno di seguire Ci tornaremo dopo Sì, abbiamo bisogno di dare un'updizione sull'attacco del reattor Quindi, quando il treno sta iniziando? Siamo in un paese? Il reattor del reattor 5 è stato temporale e tutti i fai sono stati successivamente estinguiti La situazione è sotto controllo e le persone di nostra città non dovranno preoccupare alcune problematiche di più. Siamo in processo di fare una investigazione completa di forensica, ma crediamo che il reattorato era uguale a quello che ha fatto in attacchi sull'attacco del reattor 1 Perpetrati di questa atrocità sono filmati, facendo il loro escapamento Questi agenti dell'Eco Terranismo gruppo Avalanche sono credenti a essere in grado di un'attacco in Midgar E, dato che questo gruppo ha attaccato due reattorsi in veloce successione, potrebbero essere stoppi prima di stagione? Cosa credi? Beh... non ci prenderà il rischio di sattimento non ci prenderà non ci prenderà il rischio di... che vanno ci prenderà Oh, che cosa succederebbe? Eris! Sì, sì. Cosa stai facendo all'interno? Stavo cercando di vedere il reattore. Chi è questo? Questo è Cloud. È un mercenario. E attraverso il mio corpo. Questo è Oates. Vi saluto. Due pees in un pollo. Eris! Quindi, cosa stai facendo? Ci siamo tutti chiesti vedere il reattore. Oh, è certo. Tu dovresti venire da casa. Cosa cosa? Non so, tu dovresti venire. Beh, credo che abbiamo un nuovo destino. Deve potremmo raccontare. La Leif House è l'organizzazione locale. È dove tutti questi ragazzi vivono. Eh, Eris, dove vai? La città? La prossima volta dovremmo andare insieme. Cosa, ciao, Eris. È sempre più popolosa che io vedo. Certo. Ma sicuramente mi guardano. Cosa, eris. Ha, 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 ha. È meglio di essere spettato. Grazie ancora per tutti questi ragazzi. Ci sono aiutati molti persone. No problemi, ogni volta. Cosa hai ragazzo? Cosa hai ragazzo? Oh, ho i miei cammini. E lui? È il mio corpo. È il mio corpo. È solo fino a quando mi arrivo. E sei sicuro che sia a questo? Hmm, magari. ImIlatore? Che c'è quello che ha fatto? Si ha guardo il cielo nel cielo... normalmente. E lei autore un schematico più Escolare il Alzheimer. sorry to make you come out here don't be it's on my way home well then I hope you won't mind me asking for some flowers no problem how many all you can carry what with all the doom and gloom we've been hearing on the news recently I thought some flowers might help cheer everyone up I'm sure they will and I'd love to help let's all wash up before our meal I suppose I'm going to keep it safe Non mi ricordi. Cosa? Pensi che non ti piaceva a scoprire. Beh, comunque... La mia casa è appena in questo passaggio. La mamma dovrebbe essere a casa per ora, quindi ti presento. Stai guardando in giro. È stupenda, ragazzi. Ehi, la mia casa è in questo passaggio. Stai guardando in giro. È stupenda, ragazzi. È stupenda. È stupenda. Ciao, figli. Si è piaciuto? Rude è venuta... Quindi, questa è mia mamma, Elmira. E questa è Cloud, la mia guardia. Eh, ciao. Ti occupi bene di lei? Questo è il mio lavoro. O che era il mio lavoro. Sì, grazie. So, Cloud, vai andare in giro a Sector 7? Sì. E poi ti mostrerò il modo. E perché ti senti a me portare qui? Cosa se i turcchi arrivi ancora? Cosa succederebbe, ma ho parlato con loro prima. Inoltre, sono molto più risposta di te. Ma cosa se si fai perdita, eh? Tu sarai troppo assicurato di accettare, e quindi continui a continuare a andare. Restate a fare come mi conosci. Sì, mamma. Io andrò andrò in giro a Sector 7, ok? Ok. Ma perché non aspettare fino al prossimo? Se si riusciti ora, sarà più oscuro quando ti arrivi. È meglio restare qui e fare il viaggio la prima volta. Quando ti avresti il giorno. È vero. È un po' di più. È un po' di più. È un po' di più. Oh sì. Ho ancora bisogno di riuscire delle bambini a la casa di Leaf. Da che abbiamo un po' di più di tempo prima di diatino, dovresti venire con te. Questo non è il problema. Cosa vuoi? Vuoi più? Anche che hai una riuscola prezzolata che veniva le vostre? Doi lo sai che ho prometto? Sì, lo faccio. non me lo dice cosa vuole dire addirittura due piani non me lo dice andiamo e questi qui sono i miei bambini niente sono obbligata aspetta che prima salvo prima che ci sia qualcosa di strano la parte di fiore non c'erano originale vediamo un po' cosa dobbiamo combinare ci sono i miei bambini avvicinati i fiori scegli quelli raccogliere con triangoli in base ai tuoi scelte l'atmosfera della casa verde potrebbe cambiare in modo diverso via ma ragazzi temo temo molto temo molto anche se ci sono che ci sono C'è quello che ti ho dato. C'è quello? C'è quello? Certo. Non potevo prendere altri, qua. Non potevo prendere altri qua. Ok, adesso esploriamo un po' tutto. Ok, ho già visto tutto. No beh, è in alto no però. Niente. Tra l'altro nell'originale c'era una materia nel giardino. Una materia e un oggetto. Qua invece sembra non ci sia nulla. Ok. Andiamo alla casa verde. Guardiamo se ci sono anche delle incariche. Ho sbagliato. Quella che si faceva vedere... Ah, con area 2. Non mi dice niente. Noi non ci siamo sotto la scuola o nulla. Non sono scoperto per questa roba. C'è sicuramente. E quando sei finito, ci saranno in offeri di lavoro. Quindi, come pensi che ci saranno queste flowers? Non so. Beh, ci saranno pronto. No, no. No. Ciao! Come vi? Come vi? Come vi? Siamo arrivati qui. Oh, ok. Ma potrei essere qui. Ma potrei essere un po' di tempo. Perché non guardare la città? Sì, non guardare la città. Ok, devo fare un bel giretto. Non posso entrare? Ok. Va bene. È il momento di sparare un po' in giro. Magari trovare qualche negozio di oggetto e di armi. Non c'è più. Ecco, ho dovuto qualcosa. Questa è posta del sole, ragazzi. Fantastica. Questa è quella. Questa è la mia. Questa è la mia. Chodley. I understand you must be busy, but I hope you haven't forgotten about my research. E' una fatura. Cos'è me la atti no? Uuuuh. Ricaricante. Fico, girl. Fico, girl. C'è questo? è riuscito a creare uno spazio virtuale per delle missivi speciali. Man mano che fornisce a Charlie i tuoi dati di battaglia, talvolta nel simulatore verranno aggiunte sfide speciali contro Jesper. Quando vuoi metterti la prova parla con Charlie. Aspetta aspetta. Ecco perchè io non ho letto di fare le analisi. Sì analisi. Qua dovevo battere Shiva. Maremma. Edimina tra specie mutanti. Anzi c'è una maria di roba. Vediamo che mi dà ragazzi. Predatrice. Furto. Provocatrice. Ti andano per un po' di tempo gli attacchi. E poi trincerante. Io vorrei provare la missione di guerra però provo a fare una bichiatra. Quindi boh magari prima salviamo perchè non so quali siano le conseguenze della sconfitta. E boh magari proviamoci ma... Forse è un po' troppo presto. Certo. Grazie a tutti i raccolti sull'evento leggero è stato possibile che ricreare l'Esper Shiva. Regione dei ghiacci. Però sono da sola. Forse non è stata una bella idea. Forse non è stata una bella idea. Perciò che ricreare l'espera. E poi ragazzi. Gabbagala. Non pervenuti. Ah, questo devo pararmi. Di ora, di ora. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ah, ok. E adesso che succede? Soprattutto perché stavano non c'è abbastanza bene. ok però forse ho poca vita no però possiamo riprovarci ok 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 va bene facciamo subito una mia un'altra mia in 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 Hai visto? Ma hai visto? Vai la cazura E invece io ti ho da coñanza È un'occhezza È un'occhezza E se tu rilassi Vai vai Puta Non scusate i fatti Non è male Non devo accettarmi Ho provato la teresciva No Tu l'hai fatta subito Da solo Con Cloud Cloud Ah io sono da solo Non lo aspettiamo Questa invece è costa del sole Non voglio niente Oh un negozio di armatura Sì di equipaggiamenti No solo accessori e protezione Poi mi abbasso un sacco La difesa magica Non è molto importante Non è molto importante Non è molto importante Aspetta però, la punta sì, l'avevo vista. No, non posso andare. Mi sono un attimo a Chad. Quindi neanche qua potrò andare. Allora, di qua. Di qua. Di qua. Ah, però qua ci sono già passate. Qui in mezzo non ci sono ancora passate. Qui in mezzo. Qui in mezzo. Qui in mezzo. Sì, è scontato! Quando i ricchi persone passano, mio figlio non arriva. Che nello preferisco fare i giovi qua? Ecco Cortina risonante C'è un po' 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 Un po' Inizio quel numero tatuato Numero due Quello che vive nel tubo no? E i miei fiori? Li ho messi? Non c'è qualcosa da rubare? Sì Etta Li ho passato Bis Ah, adesso posso battere Shiva. Ah, adesso vi invito a preparare il tuo simulatore portabile. T'è una cabellera che legata. Ah, è una strada in canta. Eh? Ah, è vero? Ah, subito. Ah, bec. Cosa? Ah, sì. L'agil. Ma solo per me vale? Sembra una cacca. Nooo, c'è la posizione! Purtroppo. Cioccheri io, giustamente. Listo. Eh sì. È il significato. Non so se l'ho messa Cloud. C'è freddo? Ce l'ho? Eh sì. Sì. Eh no, non mi ricordavo dove l'ho messa Cloud. Ci stai qui, no? Sì. 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 Un altro gioco! Cazzo, polvere di diamante? Sì. 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 Questo è una brutta roba. Sì. 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 Ma è di cura? Perchè? Non è che la spremio? No. L'ho usato La prima volta che l'ho Che ci ho provato Ma anche Ero morto Cazzo è mia Shiva Beh ma sei scemo Devo censurarla E cosa è successo? Eh Ho mostrato la segna Tanto gli siamo Si è distrutto gli occhiali Quello lì Cosa ha fatto? La faccia Colpa tua E si è distrutto gli occhiali Ma che? Ma è strano Cosa c'ha in faccia? Cosa è quello con i occhiali? Non sono gli occhiali Vabbè Io Shiva la metterei Sono distrutti Ma che cazzo stai incendendo? Vabbè Io metto Shiva Oh no Si distrutte gli occhiali Penso a te L'altro Nen Cazzo vuoi? Ma lo smetti? Due situazioni dal turno Questo cos'è? La specie mutante Ma qua non ho visto... non c'è nessuno in carico qua. Però... Non posso andare qua. Ma io non sono adulta. Non c'è nessuno. Odds! Tu è arrivato! Eretz è venuto per aiutare. Si, lasciate con noi. Ci prenderemo da qui. Ma ci sono monstri qui! Non preoccuparti. Mi hanno portato un amico super forte con me. Io ero un soldato. Quindi dove è il ragazzo? Non lo so. L'escrivito e noi non lo troviamo. Noi non lo so. Noi non lo so. Noi non lo so. C'è un forzio. Medaglia ma bua. Chissà cosa mica servono queste medaglie. C'è un forzio. Si esce fuori. Fuori da Midgard. Nell'open world, Tato. Si esce fuori. Fuori da Midgard. Nell'open world, Tato. Nell'open world, Tato. Ti dimetteresti. Ti dimetteresti. Ti dimetteresti. Ti dimetteresti. Ti proteggerò. Sono abbastanza bene a proteggere me stesso, sai? Ecco. Ecco. Mi avevo dimenticato che quelli lì erano dei ladri. Infatti mi hanno fottuto una pozione. Una pozione. Non si vede niente, Tinello. E' forte, è scena. E' forte, è scena. Mega pozione. Nooo. E dice. Casi. Casi. E' forte. Casi. Casi. E' ve plansi. Casi. E' oggi. Just go away! That's it! I'm coming! That's that. This one's for you! Cut, that's over. I'll protect you. I'm pretty good at protecting myself, you know. Enough! That's that. Quickly, we gotta save them. Alright. Let's go. Let's go. Don't touch the troncum. Let's go. Try this. Yop! Take her out. See ya. Ah! Go on! After you. I'll show you what I can do. Cut! One more shot! Bundle up! Cut! Tagging out! I can't heal up. Get! Just go away! Perciò che c'è il giusto? Oh Sono un po' nella merda Io non sono molto nella merda Ok Ok È tesa Non lo so Cosa? No, è multa Bene È mio È carino Sì Perché mi ha scoppiato addosso qualcosa Ma non era un game of life Che sono però Che sono? Adesso voglio giù tutto Li rilancio? Tutti due insieme? Io li ho ributtati a terra Ok 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 Let's head back no 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 non salgo no 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 ah è vero ancora cazzo figa ah io non avevo mai mangiato, non avevo mai usato questa magia qua contro l'irol ah si penso di si, non si l'ho già fatto poi si si l'ho fatto poi e mai appena porti i bambini a posto portiamo i bambini a posto e non so se li faccio in tempo no cazzo dov'è non 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 possiamo muoversi io voglio spegnere 3, mancano 3 minuti penso un paio di minuti dopo cazzo bambini merda proprio adesso è tifa 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 è mia ragazza come come non anche con jessi non 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 che bello adesso vado tutti i giorni a giocare con i bambini allora grazie a tutti i ragazzi per averci seguito mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al nostro canale no 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 non posso ehm grazie a tutti per averci guardato ciao da Frank Bay dentro no 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 no